affoso pesissimo a fine luglio siamo qua ha fatto una spedizione a spinning sul reno leggermente velato e andiamo a vedere chi troviamo ci siamo ci siamo occhio non cadere mi va da far male e c'è luca luca saluta i full timer pesca bella gusta car fishing la in mezzo alle roccine invece noi si dilettiamo a spinning e vediamo come butta like Oh, interessante. Allora proviamo con questo sviglio qua, bella vibrante, viene su, torna su. Allora proviamo con questo sviglio. 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 Interessantissimo. Vediamo se riusciamo a gabbana qualcosa. Ho messo queste piccole rapide qua. Allora. 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 Ah, che trato! Ah, è attacca, credi. Soprattutto se che andiamo a vedere questa cosa, che è stranissima, che no? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.